Passiamo le domande per il nostro allenatore Simone Inzaghi e partiamo con la domanda di Bill Mena. Buongiorno mister, che partita si aspetta contro Real Sociedad e lei è d'accordo che l'Inter è favorita riguardando il momento in cui passa la squadra? Per quanto riguarda la partita domani sera sappiamo tutti che sarà una partita molto difficile contro un avversario di qualità che in questi anni giocare in casa e fuori per loro cambia poco. L'anno scorso hanno fatto il girone di Europa League con tre vittorie e quest'anno le prime due di Champions hanno fatte altre due vittorie quindi la squadra lo sa, affrontiamo una squadra di assoluto valore e ci vorrà un Inter importante per fare il risultato. Una squadra di assoluto valore con un allenatore, definizione di Lautaro Martinez, qualche giorno fa top. Ha detto che è cresciuto tantissimo, si sente a questo livello top oggi? Insomma adesso il merito di questo inizio perché l'ha detto prima giustamente Matteo il nostro percorso sarà molto lungo, pieno di insidie quindi fa piacere che questi quattro mesi si siano fatti nel migliore dei modi però sappiamo che il calcio va velocemente, domani è già un test molto molto impegnativo però la squadra sa cosa rappresenta arrivare primo sapendo che avremo un avversario che come l'Inter ha fatto un percorso champion in queste prime cinque di tutto rispetto. Sport Italia Ciao Simone, detto che tutte le partite sono importanti e tu provi a coinvolgere sempre tutta la rosa, all'andata il robusto turnover forse tolse un po' di certezze all'inizio. Mi chiedo se domani, visto che è fondamentale l'importanza a breve e medio termine della partita perché insomma può aumentare poi le possibilità dei quarti di finale, gli introiti e tutto, mi chiedevo se c'è la rifinitura domani ma se ci dobbiamo attendere un turnover robusto o diciamo ancora questa è la partita di certezze. Qualcosa, chiaramente come ho sempre fatto indipendentemente dalla Real Sociedad, dal Benfica al Salisburgo, qualcosa cambierò a un momento dove abbiamo qualche difficoltà nelle rotazioni perché abbiamo qualche giocatore per noi molto importante fuori quindi dovrò fare delle valutazioni attente, chiaramente devo ancora vedere i parametri, il valore degli allenamenti di stamattina, non abbiamo fatto tantissimo, un po' abbiamo lavorato al video un pochettino in campo però non parlerei di turnover, parlerei di qualche cambiamento come ho sempre fatto, magari è stato accentuato nella partita di Lisbona perché i ragazzi sono stati talmente bravi di qualificarsi con due giornate in prima e ce lo siamo potuti permettere sapendo che i ragazzi avrebbero risposto bene come è stato perché la partita di Lisbona abbiamo approcciato male ma poi gli stessi ragazzi sono quelli che sono riusciti a rientrare in partita contro un Benfica che si giocava all'ingresso in Europa lì quindi è stata una grande prestazione anche a Lisbona. Cazzetta dello Sport Eccoci, volevo chiederti a proposito dell'importanza della partita di domani Cosa aggiungerebbe una vittoria domani al di là dell'ovvia possibilità di evitare gli squadroni negli ottavi di finale? In termini di fiducia alla squadra, cosa darebbe in più? Senz'altro tantissima fiducia ed in più sarebbe di grandissimo prestigio per la nostra società e sarebbe importantissimo anche per avere teoricamente un sorteggio più soft Sappiamo che in Champions sono tutte partite estremamente difficili però è un passaggio che vorremmo fare da prima in classifica. Corriere dello Sport Ciao Simone Ciao Torno ancora sul turnover, hai fatto più cambi, rotazioni di quelle che sono le seconde linee in Champions piuttosto che in campionato è stata una scelta precisa perché quest'anno l'obiettivo è vincere lo Scudetto prima che andare avanti in Europa o è la fiducia che hai nella squadra che anche di un girone che sulla carta, anche se poi si è liberato più equilibrato l'Inter poteva vincere e andare fino in fondo anche con queste rotazioni? Ma senz'altro è della fiducia e negli allenamenti che vedo della squadra quest'anno non dimentichiamo che adesso parliamo di un sorteggio soft perché noi e la Real Sociedad siamo stati estremamente bravi in tutte le prime cinque gare perché l'avversario di domani è la squadra che era stata estratta nella quarta urna e quindi sappiamo che il sorteggio non era stato probabilmente con due squadre come l'anno scorso fortissime ma era stato un sorteggio che non mi aveva entusiasmato inizialmente e che siamo stati bravi a renderlo più semplice di quello che sembra Tutto sport? Buongiorno mister Ciao Io allargo un attimo il discorso Il 6 gennaio con il Verona diventerà il sesto allenatore dell'Inter della storia per presenze Quanto la rende orgogliosa questa cosa perché comunque siamo al terzo stagione pensando alla lunga storia dell'Inter e se le piacerebbe avere un ciclo lungo come magari fanno Klopp e Guardiola in Inghilterra? Diciamo che quello è l'obiettivo penso di noi tutti allenatori ho avuto un ciclo lunghissimo alla Lazio e il mio auspicio, il mio augurio è quello di poter stare più tempo possibile qui però tra il desiderio e l'auspicio ci passa il campo ci passa il campo dove sappiamo che siamo giudicati ogni partita, ogni step e quindi bisogna lavorare insieme a questo gruppo di ragazzi insieme a tutto l'ambiente sapendo che i momenti nel calcio sono differenti e lì quando ci saranno qualche problema nei momenti è lì che bisogna fare la differenza bisogna essere più bravi Corriere della Sera Ciao, volevo chiederti se Guardado ha chance di partire titolare e poi anche che lezione è stata un po' la partita dell'andata perché loro a conti fatti dopo City e Barcellona sono la squadra che pressa più alto di tutta la Champions quindi anche il modo di affrontarli deve essere studiato in questo senso Assolutamente, sarà importantissimo la fase di possesso nostra e anche la fase di non possesso dovremo essere bravi in tutte e due le fasi perché è una squadra che ti viene a pressare è una squadra che gioca, che ha grandissima tecnica che ha tanti anni che insieme allo stesso allenatore i principi sono quelli da tantissimo che non cambiano se giocano in trasferta o in casa per quanto riguarda Quadrado sto valutando insomma lì non ho tantissima scelta ho Darmian e Bisse che è Quadrado probabilmente due partiranno dall'inizio e uno me lo porterò con me sapendo che Darmian e Bisse che hanno giocato 90 minuti domenica Juan è entrato nei 25 minuti finali che sta convivendo con un problema fastidioso che purtroppo non è ancora superato però sta dando grande disponibilità e domani insomma valuterò all'ultimo momento Repubblica di qui Buongiorno mister Ciao Allora al suo fianco c'è Matteo Darmian che gioca benissimo a centrale difesa gioca benissimo a destra anche a sinistra nel finale di partita ve lo chiederle in questo momento della squadra con le difficoltà che ci sono delle assenze quanto è prezioso avere un giocatore così in rosa da poter giocare è importantissimo Matteo insomma insieme a tutti gli altri stanno facendo molto bene poi entrando nello specifico per quanto riguarda Matteo insomma è uno di quei classichi giocatori che gli allenatori vogliono avere in squadra perché non tanto tempo fa ma due giorni fa contro l'Udinese ha cominciato da quinto a destra è andato quinto a sinistra poi è andato a fare il bracetto di sinistra la domenica precedente a Napoli aveva fatto il bracetto di destra quindi siamo molto contenti di averlo a disposizione è un giocatore di grandissima esperienza nazionale e internazionale che aiuta tantissimo i più giovani ad inserirsi nel migliore dei modi di capire i principi di giochi che insieme allo staff vogliamo portare quotidianamente qui ad Appiano Calcio Mercato Buonasera Ministro Ciao mi sposto da un singolo all'altro e abbiamo parlato di Dalmian importantissimo io vorrei spostare anche un attimo l'attenzione su Ceranoglu perché mai come questa settimana abbiamo letto tanti paragoni è il più forte d'Europa forse secondo sulla Rodri io volevo capire se le ricorda qualcuno e come è nata il momento esatto in cui è nato nella sua testa ok lo metto centrale al posto di Brozzo e perché in quel momento ma per quanto riguarda Cianaloglu se volete insomma io ero diventato allenatore dell'Inter vi spiego che il giorno che ci fu quel problema importante di Eriksen che purtroppo non abbiamo potuto più far giocare qui all'Inter ho chiamato Marotta e Ausilio la sera stessa perché insomma si leggeva che Cianaloglu non sarebbe rimasto al Milan si sarebbe mosso e dal momento che ho chiamato i miei dirigenti mi hanno detto che l'avevano che l'avevano già contattato quindi la qualità del giocatore era un'idea comune a tutti di portarlo di portarlo qua poi insomma l'abbiamo preso per fare la mezzala è inutile è inutile negarlo poi le cose che sono successe durante l'anno l'infortunio di Brozovic è prolungato ho optato per metterlo lì un paio di allenamenti mi ha convinto poi la prova del 9 sono state le partite che è andato sempre in crescente Masquale ma per quanto riguarda il passato insomma è un giocatore importante ha delle caratteristiche da play importanti in questo momento è un giocatore molto molto forte per favore rispondiamo usiamo il microfono se no lui risponde non si sente concludiamo con tutto il mercato web e per finire calciomercato.it buonasera mister dopo la gara con l'Udinese abbiamo visto insomma c'ha colpito Turan Pavar che scherzavano se ci puoi raccontare cosa significa un'atmosfera anche di grande gioia in questo spogliatoio quanto è importante e poi ovviamente Pavar correva benissimo quindi lo aspettiamo a breve in campo no? Sì Pavar ha superato ha superato il test domenica sabato sera a San Siro quindi penso che possa recuperare per per la prossima gara ma al di là al di là di quello insomma è l'atmosfera che si percepisce è quella che percepite voi dall'esterno è un gruppo di ragazzi che si vuol bene che stanno bene insieme poi chiaramente c'è un allenatore che deve fare delle scelte chi va in panchina inizialmente non è non è contento come giusto che sia ma rispettano tutti quanti le scelte e sanno che magari non per 95 minuti ma per 30 minuti 25 possono essere importantissimi per noi l'ultima prego salve mister le chiedo come è visto fra tesi in questi giorni se domani è pronto per giocare dall'inizio grazie sì Davide sta bene l'avevo visto bene già in settimana avevo il dubbio avevo il dubbio prima prima dell'udinese sabato questi due giorni e mezzo si è si è allenato molto bene senza nessun problema e penso che possa giocare dall'inizio grazie buona sera a tutti a domani grazie